Mancano poche ore al match più importante di sempre in casa Sandro Abate. I lupi sognano la doppietta, dopo aver vinto la Coppa Italia vogliono scrivere un'altra pagina di storia e raggiungere il massimo campionato nazionale. Abate e i compagni sfideranno per l'ultimo atto di una stagione quasi perfetta al lacone di Pratolaserra la prima in classifica CMB. Un solo punto divide i biancoverdi dai materani, 55 per gli Irpini, 56 per la compagine bianco-azzurra che ha perso l'unica gara della propria stagione contro i lupi. Un ultimo atto che potrebbe permettere al team biancoverde di entrare nuovamente nella storia. Il trainer romano si affiderà alle bocche di fuoco di Anluca, torre di 21 gol, e di Filippo Mello, andato a segno 20 volte. La carica del pubblico di casa sarà fondamentale per impaurire gli avversari far capire da subito chi comanda e cosa significa giocare per questi colori. L'Irpinia questo pomeriggio è pronta a sostenere il team di Nucorrini che si prepara ad entrare nell'Olimpo del calcio a 5 italiano.